Comunque, a lei il palcoscenico già piaceva molto, tanto a un certo punto fare il provino per amici di Maria De Fidini. Verissimo, ballai anche con Rossella Brescia, però lei chiaramente non se lo ricorda perché poi ci siamo scritti in privato. L'ha rimossa. Lei ha rimosso me, io non l'ho rimosso lei, francamente. Ma quindi che cosa ha dovuto fare? Il provino ballava? Allora, in realtà il provino era, perché si ricorderà c'era recitazione, canto e ballo. Io ero recitazione, però siccome c'era Rossella Brescia ho detto, io so ballicchiare la salsa, facemmo due o tre passi di salsa. Però lei non si ricorda, ripeto. Era recitato anche? Sì, era recitato, è una parola grossa. Sì, immagino. Portai tipo, esatto, quando fa così mi sta simpatico. Comunque, portai tipo un pezzo di monologo, forse una parte di Calvino e non mi presero. Quindi diciamo non era bravo lei, non c'erano i poteri forti dei ballerini dietro? Assolutamente no, non ero bravo io. È stato più facile entrare in Parlamento che ad Amici? Beh, obiettivamente, mentre lì ad Amici serviva solo il mio di talento, lì sono entrata in Parlamento grazie a Beppe e a Gianroberta e al Movimento, perché insomma mi conosceva. Comunque nel suo variegato romanzo di formazione c'è anche un momento più spirituale, perché lei è stata catechista. Infatti lei ha detto, secondo me il Vangelo è un bel libro. Beh, insomma, effettivamente ha avuto una fortuna editoriale nei secoli. Cosa le piacerebbe? Veramente ho detto questa frase? E quando, in che senso? Questo ci ha dovuto dire lei. Nel senso, secondo me, è un bellissimo, io credo che sia addirittura la parola di Dio, essendo cattolico, non più praticante come un tempo, però comunque ci sono un mucchio di messaggi che secondo me sono attuali e molto positivi. Comunque lei proprio insegnava, quindi vediamo quello che si ricorda. Questa è una domanda facilissima. Quante lettere sono state scritte ai Corinzi? Ma zero proprio. No, queste sono le basi, guardi. Lei insegnava il catechismo. Ma no, perché il catechista in una parrocchia, non è che ai ragazzini di 11 anni gli insegnavo le lettere di San Paolo ai Corinzi, non era così. Ah vede, lo sa chi. Beh, che fosse San Paolo. Quante lettere erano? Zero. È inutile che sparo, per cui non lo so. Ma i suoi allievi poi l'hanno presa, la comunione ce l'hanno fatta. Sì, però in realtà, sì, ovviamente erano già, ha fatto la comunione e io li portai, diciamo, verso la crescima. Era un master con lei. Era il master. Poi comunque ad un certo punto lei comincia a viaggiare e dice ho annodato braccialetti strada a Buenos Aires, ho pescato a Ragoste e a Panama, venduto orecchini, ha aiutato gli ambulanti di frutta secca a Santiago, caricato sabbia sui camion in Honduras. Di tutte queste attività, quale le riusciva meglio? Allora, sicuramente la più estrema fu quando lavorai, su delle barche in Amazzonia, sul rio Napo e poi sul rio delle Amazzoni fino a Sontarendo Parà. Poi un bel giorno mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Esatto, lei sembra un po' Manuel Fantoni, effettivamente. Quindi vale la pena, guardi, leggere un altro passo, poi cambiamo discorso. Lei ha scritto Vieni qui, straniero, ti ho osservato. Cosa ci fai da solo sulla nave? Mi disse Manuel il capitano che nel rio Napo vive una stranissima creatura che ti entra nella punta del pene e sale finché ha voglia. Se fai il bagno, metti sempre un costume stretto. Tutto bene, rio Napo? Sì, feci il bagno, però insomma che lo sappia senza conseguenze. Senta, il regista Paolo Virzi disse che lei è il peggior scrittore del mondo. Vuole dire cosa ne pensa dei film di Virzi per reciprocità? Beh, comunque ammazza, mi piace moltissimo. E aveva ragione su di lei o no? Secondo me no, però poi io non credo che Virzi abbia mai letto qualcosa che ho scritto. Qualora lo vesse fare può giudicare senza pregiudizi. Comunque nel frattempo lei si appassiona alla politica, alla partecipazione segue il movimento proprio dai suoi esordi partecipa ai meet-up e conosce Casaleggio che l'apprezza molto. Lo ricordava lei. Nel 2013 vince le parlamentari ed entra alla Camera. E lei racconta così il suo primo giorno. La mattina mia madre mi diede la gravatta che aveva scelto color ruggine con i quadrati blu. Si raccomandò di essere sempre educato ed elegante. Mi tremavano le gambe. Era emozionato? Moltissimo. Poi c'era anche l'emozione in un certo senso di dare una gioia alla propria mamma. Poi mia mamma è scomparsa purtroppo e quindi mi ricordo perfettamente quel momento. tu comunque entri nell'aula dove è stata votata la Costituzione Repubblicana. Insomma è molto emozionante. Quindi mi tremavano le gambe. E che ha pensato quando è entrata? Che era una grande responsabilità e che mi sarei dovuto comportare bene e francamente mi sono comportato molto bene lì dentro. Qual è stata la traccia, il segno che lei ha lasciato in Parlamento durante la legislatura a cui ha partecipato? Io credo di essere stato non l'unico però forse nel movimento il principale artefice impositivo della sconfitta di Renzi al referendum costituzionale. Senta, lei è sempre stato educato ed elegante come le consigliò sua madre? Anzi, mia mamma spesso si incavolava perché utilizzavo il torpiloquio. Ma ha avuto sempre ragione ad usarlo oppure qualche volta ha sbagliato? Certo che ho sbagliato. E a chi dovrebbe per esempio delle scuse? La prima cosa che mi ero in mente è che una volta dentro la sala stampa della Camera dissi delle parole che avrei potuto evitare. A chi? No, le dissi in generale che schifo qua, qua è tutta una merda, una roba del genere. Avevo perso il controllo. Mi dice quali sono stati invece gli errori che pensa di aver fatto in quegli anni? Allora, non candidarmi nel 2018 fondamentalmente dal punto di vista politico è un errore perché quando tu esci poi difficilmente ti fanno rientrare e quando io ho avuto la voglia di rientrare vedevo che c'erano dei bastoni tra le ruote. Delle resistenze. Come dire, quando tu lasci uno spazio che viene occupato da qualcun altro poi costui difficilmente lo molla. Però è stato un errore politico. Oggi, dopo che ne ho sofferto tanto per due o tre anni che ho pensato ho sbagliato tutto ho commesso errori io andavo, come ne so portavo mio figlio in piscina passavo sotto la farnesina sapevo che lì c'era Luigi c'era una parte mia che rosicava lì ci sarei potuto stare io però poi passa del tempo e quando tu capisci di aver seminato riconosci che determinate scelte che ti penalizzano da un lato ti premiano in altro. Ma lei lì perché ha deciso di non entrare? C'era la regola dei due mandati? Sì, parla della candidatura della candidatura i malevoli all'interno diciamo del suo partito dicevano che era la strategia con Di Maio una volta tocca a me la prossima tocca a te Io quando dissi a Luigi che non mi sarei ricandidato litighiamo per ore lui incazzato nero ma perché mi lasci solo eccetera eccetera io gli dissi io devo tornare alla mia vita perché ho dato il fritto io in quei cinque anni non c'è stato un fine settimana che non andassi in giro per l'Italia in collegi che mica cercavo il voto dovunque Senta, nel settembre del 2017 ha vinto le primarie Luigi Di Maio diventa capo politico del movimento sinceramente questa cosa a lei un po' è dispiaciuta? Zero proprio perché io già avevo in mente di non candidarmi Sarebbe stato più bravo lei come capo politico sinceramente? Allora dal punto di vista organizzativo assolutamente no per quel che concerne la coerenza della linea politica e il fatto di mantenere la barra dritta io sarei stato decisamente migliore grazie a tutti